buongiorno a tutti buongiorno ben trovati sono barbara sorgesa da form e spia vi do il benvenuto in occasione di questo quarto incontro del ciclo formativo la didattica con la giornata di oggi andremo a concludere il primo modulo del nostro ciclo formativo andremo a parlare a con il nostro esperto andremo a rucci di come fornire servizi ai cittadini attraverso lo strumento della chat con il modulo e con l'incontro di oggi andremo a concludere le quattro sessioni dedicate alla comunicazione web e social è sempre con noi lo vedete andrea marrucci lo ricordiamo buongiorno andrea giornalista professionista da tanti anni oramai si occupa di nuovi media digitali fondatore della testata cittadini di twitter.it fondatore di pias social di cui è anche membro del consiglio direttivo andrea a te la parola e buona lezione a tutti quanti buongiorno grazie barbara grazie a tutti siamo arrivati al nostro quarto incontro oggi parleremo delle applicazioni messaggistica istantanea come sempre farei una pausa intorno alle 10 e 30 una piccola pausa intorno alle 10 e 30 e eh lascerei uno spazio eh al termine del nostro incontro per rispondere ad eventuali domande che eh saranno poste durante eh la chiacchierata chiaramente voi non fate tutte le domande che volete quelle che non eh a cui non riuscirò a rispondere eh questa mattina eh daremo risposta insomma in eh con altre modalità bene quindi iniziamo eh oggi parliamo delle applicazioni messaggistiche istantanea le chat che sono sempre più ormai entrate a far parte del eh degli strumenti di comunicazione eh privati ma eh anche degli enti pubblici che le utilizzano in eh con varie modalità e oggi andremo un po' a vedere quali quali possono essere diciamo le eh queste modalità di utilizzo eh partendo da una eh da un da una serie di dati perché eh queste applicazioni eh sono eh hanno numeri in continua crescita continuano ad essere eh quelle che più sono scaricate nei eh nei nostri smartphone perché perché sono di facilissimo utilizzo li utilizziamo eh per eh la nostra quotidianità eh per usi eh voglio dire di eh semplicissimi cioè con fissiamo per fissare la partita di calcetto una scena con gli amici eh per sentire cosa eh fanno amici e parenti insomma è normalissimo ormai prendere e mandare un messaggio su whatsapp su telegram su facebook messenger per come dire avere eh un un'interazione un rapporto con le persone che conosciamo con i nostri cari come si vede questa è una eh statistica eh sulle applicazioni più scaricate nel 2021 in Italia la fonte appenniche eh fa questo tipo di ricerche eh come si vede al di là eh di alcune applicazioni eh molto diffuse come eh in quel periodo lì come posti o io eh per i servizi pubblici eh verifica diciannove sono diciamo applicazioni molto eh collegate alla eh alla pandemia anche le più scaricate sono state ancora WhatsApp, Telegram, quindi applicazioni di messaggistica istantanea che non solo sono state tra quelle più scaricate ma sono state anche tra quelle più usate perché come vedete nel nel come numero di eh come numero di eh utenti attivi eh Whatsapp è in cima alla classifica seguito poi da tra l'altro alle altre applicazioni del gruppo meta come Facebook, Instagram e poi ritroviamo un'applicazione di messaggistica istantanea come Facebook Messenger e eh superato soltanto da Amazon c'è Telegram ancora una volta un'applicazione, una chat, quindi come si può vedere nelle prime eh sei posizioni possiamo possiamo poi eh come dire eh come dire portare a cinque perché Amazon è una diciamo una eh un'applicazione per lo shop online quindi per quelle diciamo di comunicazione tra le prime cinque tre sono state come numero di utenti attivi mensili sono state applicazioni di messaggistica istantanea chat con cui durante la pandemia eh molto più che diciamo anche rispetto al passato si utilizzavano per per comunicare per cambiarsi informazioni eh avere un contatto con con i nostri eh con la nostra cerchia di amici conoscenti e familiari quindi come dire sono applicazioni su cui bene o male le persone ci stanno e questo è un dato molto importante perché possiamo eh avere l'applicazione più bella del mondo quella che in qualche modo eh fornisce i servizi eh più eh più interessanti eh più interessanti è facilissima da utilizzare ma se le persone non la usano diventa chiaramente non riesce a soddisfare le nostre esigenze di comunicazione. Il grande vantaggio di queste applicazioni è che non solo sono presenti sui telefoni praticamente ehm si stima intorno al eh oltre il dovanta per cento degli smartphone in circolazione hanno l'applicazione di messaggistica istantanea e credo che se fossimo in presenza potessi chiedere eh chi è che non ha eh eh Whatsapp o Telegram o Facebook Messenger nel nel proprio dispositivo eh credo che nessuno alzerebbe la mano praticamente anche tra eh noi che siamo qui eh questa mattina. Quindi sono applicazioni che sono presenti negli smartphone che sono poi diciamo il lo strumento più utilizzato anche per eh scambiarsi informazioni eh e eh ricevere tutta una serie di eh di fare una serie di eh di fare una serie di ulteriori attività ma non solo sono presenti ma sono anche molto utilizzate. Questo cosa vuol dire che se le mie informazioni riescono a inserirsi in questo flusso di scambio di informazioni, di interazioni, ho ottima probabilità che queste in qualche modo raggiungano il destinatario e vengano lette. Più che magari con eh altri tipi di applicazioni. questo è il duemila ventuno. Vediamo se nel duemila ventidue nei primi mesi del duemila ventidue questo andamento che vede insomma le applicazioni messaggistica istantanea molto scaricate e molto utilizzate è proseguito perché magari era un fenomeno legato a un periodo particolare. Questi sono eh i dati sulle applicazioni più eh scaricate nei eh primi eh quattro mesi del duemila ventidue la fonte è Sensor Tower, un'altra società che si occupa di di ricerche eh nel mondo eh nel mondo del digitale e social eh e vediamo che ancora una volta tra le prime posizioni dopo eh TikTok, Instagram, Facebook, troviamo WhatsApp e WhatsApp e Telegram quindi anche nel duemila ventidue sia perché eh su App Store che su Google Play sono state tra le applicazioni più scaricate. Quindi vuol dire che questo trend per cui eh le eh le chat rappresentano diciamo un eh un un' un'applicazione di cui non si può fare a meno ormai per comunicare eh con il nostro eh telefono è un trend in eh eh stabile cioè che continua, va avanti e dobbiamo aspettarci che nel nel futuro continuerà ad essere così almeno nel prossimo futuro anche se sappiamo che il mondo diciamo digitale e social eh cambia molto velocemente in questo per questo tipo di applicazioni, in questo tipo di uso eh del eh della messaggistica è molto probabile che andrà avanti quindi ci sarà un un ulteriore eh saranno sempre insomma WhatsApp eh Telegram e eventuali nuove applicazioni di messaggistica potrebbero venire fuori andranno ovunque saranno sempre molto utilizzate molto scaricate dai cittadini. e qui torniamo a vedere questa ricerca del 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 2021 eh su ancora una volta eh su ancora una volta quanti su quanti sono il quant'è l'attività che viene svolta su queste applicazioni come vedete ancora una volta WhatsApp, Facebook, Messenger sono diciamo applicazioni che noi utilizziamo tanto ma se ci pensate non vi dico niente di eh di nuovo al di là dei numeri perché tutti voi sicuramente eh già eh già da stamattina quando siete arrivate qui avrete letto o inviato messaggi attraverso una di queste applicazioni perché perché siamo abituati ad andare a vedere se vediamo magari che ci è arrivato un messaggio su WhatsApp andiamo subito a vedere chi ci ha scritto e cosa ci ha scritto. eh questo utilizzo quotidiano quindi sappiamo che queste questo tipo di piattaforme è presente nei gran parte dei telefoni che sono poi lo strumento più utilizzato per la nostra attività online eh sappiamo anche che sono utilizzate frequentemente quante volte li vengono quante volte durante il giorno le apriamo per andare a controllare o per utilizzarle. Dobbiamo quindi inserirci in questo eh in questo flusso in questa eh realtà per comunicare ciò di cui abbiamo bisogno, cioè farne un utilizzo che può essere professionale. e in questo senso ci sono tante belle esperienze da parte della pubblica amministrazione italiana nell'utilizzo di WhatsApp, di Telegram, di Facebook Messenger per scopi professionali. come li utilizza? Come li utilizza? Diciamo che sono gli utilizzi più diffusi da parte della pubblica amministrazione eh l'invio di messaggio di informazioni utili, un servizio diciamo di eh informazione che eh invece di avvenire magari tramite la la mail, la tradizionale newsletter avviene attraverso eh Whatsapp. si potrebbe dire bene ma se io già lo faccio eh per mail perché devo anche andare a eh fare un servizio informativo su Whatsapp? Beh per tutta una serie di ragioni che ci siamo detti anche adesso perché perché è senz'altro più facile raggiungere il cittadino attraverso Whatsapp che rispetto alla tradizionale mail perché è più immediato perché è più abituato ormai a utilizzare eh magari una 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 chat rispetto a eh un servizio di eh di mailing che comunque ha sempre il suo valore ci mancherebbe altro. Noi parliamo sempre di una comunicazione integrata tra più strumenti digitali e questo non dobbiamo mai dimenticare. Non è che se io attivo eh Whatsapp e eh allora rinuncio alla newsletter. Whatsapp va come dire a integrare le nostre scelte da dei vantaggi che sono quelli della rapidità, della semplicità, dell'utilizzo frequente, del fatto che comunque eh riesco a raggiungere le persone dove stanno dove stanno dove stanno a chiacchierare come immaginatevi se ci fossero eh ci fosse una piazza piena di persone dov'è che io vado come dire a fare la mia azione di comunicazione vado lì dove ci sono i cittadini perché so che in quel che lì li trovo e in qualche modo poi chiaramente aspetta a me riuscire a interessare a intercettarli ma lì ci sono su Whatsapp, su Tele, su Facebook Messenger abbiamo visto che ci sono e sono attivi. si può utilizzare come sportello online. Perché? Perché eh avere un rapporto con il cittadino attraverso Whatsapp ha tutta una serie di vantaggi rispetto magari a strumenti più tradizionali. Quali? Ad esempio il fatto che eh si dà un'immagine molto più smart, molto più friendly, eh siamo su Whatsapp quindi come dire ci scambiamo informazioni sulla chat che utilizzi per i tuoi usi quotidiani. quindi voglio dire molto più un rapporto molto più social con con il cittadino rispetto magari a strumenti più tradizionali ma soprattutto una segnalazione che ti può arrivare via Whatsapp è molto più eh facilmente risolvibile almeno per quanto riguarda chiaramente le eh segnalazioni semplici perché molto spesso eh le richieste dei cittadini sono richieste estremamente eh semplici magari eh eh prendere un appuntamento con un ufficio piuttosto che scaricare eh un modulo online avere informazioni su la mensa, il menu della mensa della scuola. quindi come dire se io questo tipo di interazione le spesso su Whatsapp velocizzo notevolmente eh la conversazione non solo ma eh riesco ad avere anche delle segnalazioni molto eh più precise. immaginiamoci ad esempio tra la segnalazione di un qualunque eh di servizio o eh diciamo un problema che può avere il cittadino tra eh fare una telefonata e parlare quindi con un eh con un operatore o eh inviare una mail o fare un messaggio su Whatsapp. su Whatsapp siamo abituati a scrivere comunque poco, essere brevi, essere chiari. Se c'è bisogno posso eh aggiungere facilmente un'immagine, scattare una foto e mandarla. Cioè vedo che eh un il semaforo non funziona, scatto una foto e mando la segnalazione e mando la segnalazione che è una segnalazione anche più precisa perché con un'immagine riesco a inquadrare immediatamente la zona dove è il problema e quindi il la mia amministrazione può come dire intervenire molto velocemente. posso come dire attraverso Whatsapp dare una prima informazione e poi attraverso un link magari eh eh nella risposta il cittadino va poi a prendere quello di cui ha bisogno, insomma. È una conversazione che siccome siamo abituati tutti, un messaggio molto breve, a volte siamo, si limitano ad un emotione, il pollicione, la faccina e così già abbiamo fatto la nostra diciamo il nostro messaggio. Quindi pensate quant'è più veloce, quant'è più immediata, quant'è più rapida rispetto a una comunicazione, una segnalazione che ti arriva sui canali tradizionali. Ci sono poi eh la possibilità in alcune di queste applicazioni di eh realizzare dei bot che sono delle piccole intelligenze artificiali che però, come dire, danno una prima risposta all'interlocutore. Quindi se eh ad esempio ho bisogno di una informazione semplice tipo eh dove trovo eh i contributi per per la scuola, magari posso utilizzare anche una piccola intelligenza artificiale che aiuta diciamo il cittadino ad arrivare al a ciò che cerca. infine c'è diciamo sì il il quella che io ho chiamato ma impropriamente newsletter cioè si eh su Telegram si possono creare dei canali in cui i cittadini si iscrivono e ricevono informazioni. Più o meno può essere come una immaginabile come una newsletter dove io eh a cadenza eh eh giornaliera settimanale e quello chiaramente dipende sempre da le nostre possibilità, da quanti eh siamo a gestire la parte i canali digitali, dai contenuti che voglio andare a diffondere, dal tema di cui voglio parlare. Mi si torna anche eh vorrei vedere alla precedente incontro in cui avevamo parlato delle polisi che che sono documenti in cui devo stabilire anche tutti questi passaggi. Però posso utilizzare una ehm un'applicazione come Telegram che il cittadino, spero, utilizza magari per i suoi scopi personali per far circolare le informazioni. e quindi andiamo a vederle poi eh eh che in quali sono le eh diciamo nello specifico queste applicazioni. Chiaramente la più diffusa e quella eh più utilizzata dai cittadini e quindi anche la pubblica amministrazione italiana è Whatsapp. l'applicazione che tutti conosciamo eh è stata acquistata anni fa eh dal da Facebook poi è diventato eh meta e come dire la piano piano sempre più eh eh implementata anche avvicinata a un social network e come viene utilizzata la pubblica amministrazione per le comunicazioni dirette. cioè l'invio di messaggi informativi che possono riguardare diciamo la vari aspetti eh dell'ente eh banalmente si può immaginare anche un servizio eh su Whatsapp solo di informazione magari eh del traffico cioè se abbiamo eh dei problemi di traffico il eh inviamo un messaggio ai cittadini in cui diciamo che eh quella strada è chiusa o eh eh o c'è stato eh o c'è stato l'incidente quindi da un percorso alternativo. È diciamo l'invio di messaggi che avviene eh attraverso eh liste broadcast che sono diciamo una serie di liste predefinite eh eh a cui inviare in contemporanea eh il messaggio e l'utente che le che le riceve vede diciamo sì che eh è stato inviato dal comune dalla regione da insomma da chi ha attivato il servizio ma non vede tutti gli altri a cui è stato inviato in quel momento né più e nemmeno come può essere un eh una mail in copia conoscenza nascosta quindi io eh vedo chi me l'ha mandata ma non vedo tutti gli altri a cui è stato inviato. Questo diciamo è un tipo di utilizzo per eh informazioni di eh pubblica utilità che mi permette a rispetto a dicevo ad altri strumenti di andare eventualmente a colpire bene il mio obiettivo perché perché so che su WhatsApp il cittadino c'è ci sta è presente ed è attivo e quindi eh senz'altro dovrebbe alla fine leggere anche il mio messaggio. oltre a questo diciamo è un modo molto semplice perché ti arriva un bel messaggio che vedi sul telefono e quindi è facilissimo da come dire eh un'informazione molto semplice si può eh con cui raggiungere le persone. l'altro chiaramente è lo sportello, la comunicazione one to one. Io ti metto a disposizione oltre ai canali tradizionali anche la possibilità di contattarmi via WhatsApp. è diciamo sì un un utilizzo che viene fatto anche questo eh da numerosi problemi di amministrazione italiana che poi vediamo anche qualche esempio ed è molto appensato dai cittadini. eh ti vuoi dire mi sono a tua disposizione oltre che con il front office con il telefono con la mail con tutti gli strumenti che già sono stati attivati anche con un numero WhatsApp dove mi puoi chiedere eh le informazioni. attenzione eh non andiamo però a variare quelle sono le regole che ci siamo detti nell'incontro precedente. se io scelgo WhatsApp la mia social media policy dovrà prevedere anche la presenza su WhatsApp e quindi darò delle regole anche per l'utilizzo di WhatsApp. eh oltre a un'applicazione tradizionale di WhatsApp c'è anche WhatsApp business è un'implementazione che nasce nell'idea della società per le per le piccole imprese perché ha delle caratteristiche diciamo leggermente diverse. si può fare un profilo aziendale ci sono le risposte automatiche a tutta un'altra serie diciamo di altri strumenti eh che vanno a implementare eh l'utilizzo della chat ed è interiera pensata per le eh diciamo le piccole le piccole imprese. c'è stato c'è stato anche un'utilizzo però da parte della pubblica amministrazione italiana. L'ultimo arrivato è proprio di meno di un mese fa eh Whatsapp community. Questa novità diciamo di Whatsapp eh che arriverà con con gli ultimi aggiornamenti della dell'applicazione. che cos'è? Diciamo è eh vanno si potranno creare dei eh super gruppi, dei grandi gruppi eh in cui inserire eh diciamo i nostri i nostri contatti eh e questi grandi gruppi eh verranno, possono essere poi suddivisi in in sotto comunità. quindi eh il diciamo eh posso decidere di avere un un contatto con i cittadini eh attraverso gli inserimenti in questo super gruppo dove però può inserire, diciamo si può essere gestito eh soltanto dall'amministratore e poi magari suddividerli in base alle loro eh al loro interesse. quindi diciamo che faccio il mio super gruppo eh dell'amministrazione comunale del comune di eh Siena eh e poi divido per chi è interessato magari agli spettacoli, per chi è interessato alle notizie sulla scuola e via dicendo. Ora chiaramente questa nuova eh questa nuova arrivata è ancora tutta da studiare, da vedere come si può eh utilizzare eh nella eh per la comunicazione pubblica l'idea di eh Facebook di meta diciamo in generale è quella di andare sempre più a eh lavorare sulle eh community e sulla messaggistica diretta, messaggistica istantanea. Quindi si partirà con WhatsApp con quest'idea delle delle community ma poi dovrebbe allargarsi, questo almeno ci dicono insomma gli osservatori, anche alle altre applicazioni del gruppo, da Facebook Messenger a eh direct, messaggi diretti su su Instagram. Quindi diciamo l'idea è quella eh del del gruppo diciamo nel mondo social e trainante di puntare sempre più sulle community e sulla messaggistica diretta. Teniamolo bene a mente perché oggi parliamo proprio di questo e quindi se questo diciamo se il mondo social va in questa direzione cerchiamo come dire di essere attenti alle novità e a come soprattutto si può strutturare un servizio di informazione attraverso queste realtà formi. L'ha fatto ad esempio l'azienda di trasporto Brescia Mobilità che è stata tra le prime esperienze eh a livello europeo nell'utilizzo di WhatsApp come strumento di comunicazione e informazione. come vedete come lo utilizza cioè banalmente io sono alla fermata dell'autobus non passa il 34 varrato eh a chi chiedo informazioni cioè come faccio vado a cercare il mio telefono chiamo la mia azienda di trasporto pubblico eh a Brescia basta andare su WhatsApp e se si come dire segnate il numero in una pubblica della eh dell'azienda e si manda un messaggio in cui si chiede in questo caso a che ore passa la due chiesa nuova alla volta dalle otto alle nove e mi vengono indicati tutti gli orari in altri casi magari chiedo se c'è lo sciopero eh se eh se una un servizio è ripartito se ci sono problemi e quindi dove posso andare a prendere l'autobus. informazioni diciamo che però sono molto semplici magari ma che mi risolvono la giornata perché se io sto lì ad aspettare l'autobus l'autobus non arriva e non so dove andare a prenderlo non riesco a parlare con nessuno che mi dà un'informazione sarò un cittadino che ha avuto un disservizio che è molto arrabbiato e che ha avuto come dire molto problemi nella sua giornata e purtroppo non è che stiamo parlando di cose che non accadono mai ma che possono accadere molto eh facilmente quindi se noi però siamo presenti magari con un servizio WhatsApp gli diamo quell'informazione in maniera come vedete molto smart con i cuoricini le eh le faccine felici quindi come dire siamo guarda sono il tuo amico che su WhatsApp ti dà l'informazione eh qualche anno fa insieme a Francesco di Costanzo abbiamo realizzato un piccolo volume su eh come Whatsapp si stava diffondendo nel eh nell'utilizzo da da parte delle eh di ente aziende pubbliche italiane abbiamo eh fatto una ricerca su un anno di eh messaggistica venuta su WhatsApp dell'azienda pressionabilità ecco la parola più utilizzata alla fine nelle conversazioni è stata grazie perché perché il cittadino gli dai informazioni che cerca gliela dai in tempi rapidi gliela dai in maniera molto eh semplice e comprensibile e quindi alla fine ti ringrazio e sappiamo bene che non è purtroppo così scontato avere un grazie da parte dei cittadini ma non c'è solo pressionabilità anche il comune di ancora ha realizzato un servizio eh via WhatsApp eh sia come sportello online che per l'invio di informazioni di pubblica utilità come ancora ha anche Telegram però diciamo è partito con WhatsApp come lo ha eh strutturato da un lato io scrivo e dall'altra parte mi viene risposto a seconda della richiesta del faccio che io ripeto molto spesso sono richieste abbastanza semplici a volte sono anche segnalazioni di problemi dall'altro se io voglio ricevo le informazioni sul mio telefonino eh in questo caso come dicevo si creano delle liste poi lo vediamo meglio ho preso un focus specifico su un servizio di un'amministrazione realizzato eh tramite WhatsApp quindi da un lato ho il rapporto nel cittadino ma dall'altro per chi non ha bisogno magari comunque di rivolgersi a me ma avendo il servizio WhatsApp attivato eh lo come dire lo posso informare attraverso un messaggino sul telefono quindi diciamo ne fanno un utilizzo in entrambe le direzioni eh molto importante è anche la parte delle segnalazioni perché come sappiamo su questi strumenti siccome è molto facile interagire molto facile ricevere feedback e eh informazioni anche da parte degli utenti l'ascolto anche su WhatsApp è un lato importantissimo perché facevamo prima l'esempio eh dell'azienda di trasporti che nel senso se io attivo un servizio del genere e continuiamo continuamente mi arrivano segnalazioni perché una linea magari è in ritardo ora un giorno può essere un incidente un giorno ci può essere il traffico particolarmente importante ma forse forse c'è stato un errore magari nel disegnare la linea cioè perché per per rispettare quegli orari è molto difficile quindi può essere anche questo un feedback importante così come se io sono un'amministrazione comunale mi arrivano continuamente segnalazioni di eh cestini dei rifiuti eh pieni in una zona forse non sono abbastanza non sono sufficienti quindi anche su questi strumenti l'interazione con i cittadini è molto importante ricevere segnalazioni al di là che si risolva un problema eh all'utente cittadino è anche quello di come dire avere in tempo reale un quadro di quello che succede di quello che possono essere i problemi sul territorio. il comune di Milano invece ha fatto eh un esperimento su eh con un whatsapp business dando eh utilizzando diciamo questa applicazione di messaggistica istantanea per creare un assistente virtuale lo 020202 del comune di Milano che dava tutta una serie di informazioni ben precise soprattutto diciamo nel periodo eh di pandemia quindi io attraverso quindi io attraverso quindi io attraverso quindi io attraverso whatsapp potevo vuol dire mandare un messaggio a al comune di Milano e ricevere le informazioni quindi con una piccola intelligenza artificiale avevo come dire quelle informazioni sulla pandemia che mi eh servivano in quel momento ma oltre alla pandemia c'era anche tutta un'altra serie di eh possibili informazioni da ricevere quindi come vedete l'utilizzo può essere l'utilizzo può essere molto vario e andiamo a vedere nello specifico come può funzionare un servizio whatsapp eh in questo caso eh raccontando quello che ha fatto il comune di Arezzo e ringrazio il collega Andrea Scartoni del comune di Arezzo che mi ha eh fornito tutta una serie di eh informazioni su come loro hanno eh gestito e implementato il servizio e implementato il servizio whatsapp allora innanzitutto cosa deve fare il cittadino salvarsi in rubrica il numero di telefono perché per l'invio di messaggi per il broadcast è importante che ci sia eh il numero salvato nella rubrica del telefono a quel punto inviare un messaggio su whatsapp ho scritto iscrivimi cioè io do l'autorizzazione a iscrivermi al servizio a il comune che cosa fa? invia al cittadino la policy del canale whatsapp in cui si avverte anche tra le altre che se io a un certo punto decido di non voler più usufruire questo servizio basta inviare un messaggio scritto cancellami quindi torniamo al discorso delle policy perché se io sono su whatsapp siccome è uno strumento ancora più particolare magari rispetto a eh social tradizionale dovrò darmi delle regole cioè dovrò dire a cosa serve quel servizio perché se io lo utilizzo soltanto per l'invio di info utili dovrò avvertire il cittadino che è lì però non mi deve scrivere per le segnalazioni per avere informazioni perché quello è soltanto un canale diciamo di invio di informazioni dovrò dire come per tutte le eh gli altri social quali sono le regole della casa come si può utilizzare come quali sono il perché ci sono io e come intendo utilizzarlo e quindi di conseguenza come ci si deve rapportare il cittadino che eh vuole in qualche modo avere un servizio su whatsapp o interagire con l'amministrazione tramite whatsapp. poi cosa hanno fatto eh al comune di Arezzo? Hanno creato una serie di come dire messaggi predefiniti per eh il vuol dire lavorare su eh uno strumento che richiede diciamo dei tempi brevi e che eh quindi io posso dire posso avere il messaggio di benvenuto quindi eh benvenuto con il online nel servizio whatsapp del comune di Arezzo qua riceverai informazioni di pubblica utilità. Legge la nostra policy che come vedete poi c'è un link che è pubblicata sul sito web come ci siamo detti la volta precedenza e precedente diamo chiaramente uno spazio possibilmente sul eh sul sito web. Poi ci sono un video all'iscrizione, il messaggio di cancellazione eh tutta una serie insomma di messaggi predefiniti con cui velocizzare le comunicazioni con il cittadino. eh dal lato comune quindi che cosa è stato fatto? Sono state create queste liste broadcast su whatsapp che come dicevo è come avere una serie di liste per inviare una mail in copia conoscenza nascosta e qual è il vantaggio delle liste broadcast? Che io posso decidere di creare anche una comunicazione targhettizzata su whatsapp perché magari posso eh decidere di ma dire attivare il servizio per il mio comune e attivare anche dei sottoservizi cioè perché è interessato a tutte le informazioni benissimo se sei interessato alle informazioni che riguardano invece soltanto uno specifico servizio che può essere gli appuntamenti in città che può essere eh le scadenze eh nei pagamenti de con eh dell'amministrazione. quello a seconda chiaramente di come voglio strutturare il servizio perché non dimentichiamoci mai che anche un servizio di informazione su whatsapp o qualunque altro social me lo posso uscire addosso secondo le mie necessità. ad esempio il comune di Ancona ha una lista valneazione perché lì è molto importante sapere se c'è un diritto o meno un diritto di valneazione e quindi ha al di là del servizio diciamo di invio di informazioni generali dell'amministrazione anche una lista per che è interessato soltanto a avere le informazioni sulla valneazione. quando un eh insomma al servizio ha trovato alcuni di Arezzo dicevano il messaggio iscrivimi in mandano in mandano immediatamente il messaggio di benvenuto con il link alla policy quello ci siamo detti adesso a quel punto viene salvato l'utente numero di telefono dell'utente chiaramente va salvato in forma anonima quindi utente 001 002 e fare un eventuale backup su un foglio di calcolo quindi loro utilizzano google contatti si salvano diciamo in maniera anonima i vari numeri di telefono dopodiché il nuovo utente viene inserito in una lista broadcast che se è quella generale lo inseriamo nel nostro elenco di contatti altrimenti se abbiamo delle liste specifiche e lui ha scelto di inserire in una o più liste broadcast e che come lo utilizza? cosa manda nel telefono dei cittadini del comune di Arezzo? info diciamo info utili da tamponi rapidi al via lo screening gratuito a eventi metodi aperti termini per presentare le richieste di contributo l'appuntamenti che ci possono essere dell'amministrazione quindi il consiglio comunale quindi informazioni che in qualche modo possono interessare al cittadino per le proprie esigenze quindi per la salute per avere contributi economici ma anche per un'operazione diciamo di trasparenza dicendo le attività che ci sono all'interno dell'amministrazione in questo caso il consiglio comunale questo è l'esempio di messaggio di benvenuto gli dicevano il messaggio iscritti e gli mandano il messaggio come abbiamo visto per dire benvenuto nel unico all'anno il servizio su whatsapp del comune di Arezzo nel quale si riceveranno informazioni di pubblica utilità legge la nostra policy e saprete che per cancellarsi al servizio abbiamo un messaggio scritto cancellami a presto come vedete anche il linguaggio il rapporto che c'è il tono di voce che hanno il cittadino è molto molto semplice molto friendly da whatsapp perché non dimentichiamo mai che se siamo su whatsapp dobbiamo utilizzare per utilizzare bene la piattaforma dobbiamo calarci su whatsapp quando anni fa facemmo questo volume dedicato a whatsapp in città raccontando le buone pratiche nell'utilizzo della chat da parte dell'amministrazione italiana c'erano anche amministrazioni che avevano scelto di utilizzare whatsapp ma con le modalità diciamo sì da altro sistema cioè dicevano che la risposta alle richieste che arrivano su whatsapp sarà data entro 30 giorni che chiaramente non sono i tempi di whatsapp se io sono su whatsapp dobbiamo dare una risposta in tempi brevi questo riguarda tutti i social ancora di più una chat dove siamo abituati ad avere una risposta se non ci arriva andiamo magari anche più volte a contare perché non perché andrea non ha risposta al messaggio che gli ho mandato quindi stiamo alle regole di whatsapp questo è un esempio di compensazione buongiorno vorrei prendere l'appuntamento di settimana per rinnovo del permesso è possibile farlo tramite questo canale buongiorno certamente potete utilizzare questo canale hai ragione hai giorni scusate ma hai giorni o fasce che preferisci quindi gli chiedono in che giorno vuole andare e bene rifissa un appuntamento anche questo è diciamo una necessità alla fine anche abbastanza semplice da risolvere però è utilissima per il cittadino che in questo modo ha mandato un messaggio alle 8 e 41 e nemmeno 10 minuti dopo ha avuto l'appuntamento fissato senza dover far altro praticamente dicendo solo le sue preferenze per giorni e fasce come vedete un cittadino è senz'altro ben felice di aver esaurito diciamo la sua necessità in pochi minuti attraverso uno strumento semplice come whatsapp qui c'è invece un messaggio assistenza e orientamento ai servizi in questo caso se non si possono inviare segnalazioni a questo numero questo viene risposto che per diciamo le segnalazioni c'è una piattaforma ad hoc e questo è un diciamo una modalità che utilizzo numerose amministrazioni perché perché magari ho la mia piattaforma per le segnalazioni dei problemi eh che su web chiaramente non ha l'appeal non ha non è così diffuso l'utilizzo come quello di whatsapp ma in questo caso a cosa ti serve la chat tanto utilizzata dalle persone come porta d'ingresso per poi orientare il cittadino utente ad andare a fare la segnalazione in modo corretto attraverso cosa la piattaforma messa eh realizzata dall'ente per le segnalazioni eh e qui come si vede qui viene chiesto un sono informazioni e poi eh grazie per il diciamo sì grazie dell'avviso grazie per averci contattato grazie a voi per l'efficienza grazie a voi per l'apprezzamento del servizio grazie a voi un buon servizio informativo a rivederci saluti come vedete cioè nel senso eh piace 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 al cittadino e ringrazia che vuol dire dando un'informazione anche molto semplice proprio eh già molto contento sono molto soddisfatto del servizio ma poi sulla soddisfazione dei cittadini nell'utilizzo di whatsapp come strumento per ricevere informazioni avremo dei dati eh più specifici ed eccole qua perché cosa ha fatto il comediarezzo nel marzo scorso abbiamo ormai sono anni che portiamo avanti questo servizio secondo noi con buoni risultati perché eh gli iscritti eh sono andati sempre ad aumentare eh la così i messaggi che ci scambiamo sono in aumento e guardate bene per la mia esperienza ormai da anni che eh mi interfaccio anche con eh gli enti e le amministrazioni diciamo di attivare un servizio di questo tipo nella maggior parte eh sono di più il numero di nuovi iscritti rispetto ai disiscritti cioè solitamente si cresce a secondo chiaramente anche dalla comunità di riferimento ma con buoni numeri e disiscritti a questi servizi sono veramente pochissimi eh quattro cinque all'anno non si superano questi questi numeri e chiaramente va visto anche poi chi sono gli iscritti perché magari io ho cambiato comune ho piuttosto ero ero solo curioso di vedere come il comune di Arezzo utilizzò whatsapp mi sono iscritto e poi non mi interessa più per e quindi mi cancello quindi diciamo è difficilissimo che un servizio del genere almeno per la mia eh esperienza e per quanto ho visto finora eh abbia un numero di disiscritti maggiore rispetto agli iscritti ma andiamo a vedere come eh i cittadini di Arezzo eh se i cittadini di Arezzo eh apprezzano o meno quanto è realizzato dalla eh dalla dal suo comune da eh quanto si fa con unico online attraverso whatsapp eh come è conosciuto questo servizio? innanzitutto diciamo la maggior parte dice per il passaparola e per il sito internet del comune e poi ci sono anche il volantino e Facebook perché perché quando è partito il servizio che cosa ha fatto eh l'amministrazione? Ha chiaramente doveva farvi cioè doveva in qualche modo comunicare che c'era il numero di telefono al servizio dei cittadini e questo era fatto attraverso una strategia corretta eh diciamo utilizzata integrata su più strumenti quindi è andata eh l'informazione circolata sul sito internet è stato stati fatti dei volantini cartacei cioè è stato eh è stato rilanciato sugli ai sui canali social su cui era già presente quindi ha come dire va in qualche modo detto al cittadino che c'è questo servizio e quindi se vuoi ricevere le informazioni devi salvarti il numero di telefono dello sportello unico online del comune di Arezzo e fare tutta la servizio di procedura quindi è una prima parte molto importante se si decide di attivare un servizio WhatsApp l'informazione diciamo al cittadino iniziale è quella che chiaramente serve perché perché poi il servizio nove volte su dieci abbiamo detto finora è un servizio che funziona e che piace e quindi poi tramite il passaparola dice guarda lo sai eh eh si aprono si riaprono domani i termini per la presentazione dei contributi come l'ha saputo ma guarda mi è arrivato ora il messaggio del comune sul telefonino sul telefonino dice come lo dice all'amico che basta si segni quel numero di telefono lì mandi un messaggio scritto iscrivimi e eh anche lui potrà ricevere questi messaggi quindi il passaparola ha funzionato tantissimo come si vede nel eh nella statistica del del comune di Arezzo eh considerato che viene inviato in norma di informazione settimanale con le info del momento con giù di frequenza di invio diciamo che un messaggio della settimana la parte eh blu è diciamo quella in cui si eh siamo d'accordo con con questa eh frequenza di invio è quella che va benissimo ai cittadini del comune di Arezzo perché qua è l'altro aspetto chiaramente non dobbiamo nemmeno andare a eh intasare eh la diciamo sì la i messaggi eh eh su WhatsApp del cittadino perché prima abbiamo dieci messaggi il giorno se non c'è necessità chiaramente mi trovassi in caso di emergenza per calamità naturali o altro chiaramente cercherei di informare il più possibile i cittadini però a cose normali diciamo nel quotidiano mando mando le informazioni magari se c'è necessità o se no a cadenza può essere quotidiana può essere settimanale può essere quello in base anche come sempre le possibilità che abbiamo e il rischio che troviamo e vediamo a diciamo la soddisfazione del servizio quanto ritieni utile le informazioni che ricevi 652 sono state le risposte come vedete per il 58% molto utili per il 39% abbastanza utili quindi ciò quelli che ritengono eh il servizio eh le informazioni che ricevono utili sono eh praticamente nove cittadini su dieci di quelli che hanno risposto all'indagine eh del comune di Arezzo. un risultato direi più che soddisfacente insomma per eh per l'amministrazione che ha attivato eh questo canale informativo su whatsapp e vediamo eh quali potrebbero secondo i cittadini di Arezzo quali potrebbero essere diciamo le informazioni da veicolare ulteriormente sviluppi eh su eh per eh per eh il canale whatsapp dell'amministrazione in futuro che tipo di informazioni personalizzate gradiresti ricevere? insomma la maggior parte informazioni di emergenza avviso di protezione civile, allerte meteo, usura a scuola, emergenza in generale che vuol dire quindi me lo vedo come uno strumento facile da utilizzare, rapido, che mi arriva, che leggo e dunque lì ci possono anche far transitare informazioni importantissime come quelle dell'emergenza quindi pensiamo quanto per eh il pubblico eh eh per gli utenti cittadini del comune questo strumento è diventato uno strumento fondamentale di comunicazione e informazione perché se io indico quel tipo di eh contenuti vuol dire che lo reputo uno strumento da privilegiato per le informazioni eh poi ci sono diciamo c'è chi chiede una informazione sulla zona in cui abito lavoro un'attività che volendo potrebbe si potrebbe fare attraverso la targetizzazione divido la città in zone e magari vi faccio anche delle eh un'informazione più mirata ma chiaramente lì dipende poi dalle possibilità che ho, dei contenuti che voglio dicendo eh informazioni legate a tempi specifici, probabilità, cultura, anche in questo caso si andava a capire se creare magari dei diciamo delle liste specifiche su determinati argomenti in generale comunque vediamo che ci sono state tante risposte che come dire eh la maggior parte delle persone hanno risposto e chiede un'implementazione eh del servizio di informazioni che l'amministrazione è attivato attraverso eh Whatsapp e vediamo se davvero povero ora benissimo il servizio è valido mi dà le informazioni forse cioè chiedo anche che venga eh in qualche modo eh ampliato ma vediamo se quanto fatto finora ha davvero soddisfatto eh il cittadino e nel questionario del comune di Arezzo si andava direttamente che in una scala da 1 molto lenta a 6 molto rapida come giudichi la rapidità delle risposte ricevute tramite la chatta del servizio unico online su Whatsapp come vedete 6 molto rapide la maggior parte delle persone le ha viste in maniera molto rapida ok quindi sono state eh le risposte sono arrivate in tempi brevi anche perché diciamo 5 e 6 sono la parte principale questo aspetto va poi a ricollegarsi a quello che ci eravamo detto la volta precedente quindi se io attivo un servizio su Whatsapp devo essere rapido nelle risposte ancora di più magari che ha un commento che appare eh sotto un post di Facebook che lì viene poi fatto una domanda uno a uno e quindi devo avere anche una catena interna di informazioni eh molto eh strutturata molto ben strutturata nella mia community interna che mi dà le informazioni di una necessità deve essere stata formata deve comprendere io devo dare informazioni in tempi brevi quindi essere pronta a come dire darmi contenuti per rispondere al cittadino in una scala da uno insufficiente a sei ottima come giudici la qualità delle risposte ricevute tramite Whatsapp come vedete anche in questo caso il i cittadini sono eh rimasti probabilmente eh colpiti da la qualità delle risposte fornite all'amministrazione quindi io devo essere in grado di dare risposte in tempi rapidi e anche con contenuti validi perché se io penso vabbè lo su Whatsapp se poi mi chiedono qualcosa e dico le risponderemo appena possibile chiaramente il servizio non avrà quel successo che ci possiamo immaginare devo dare delle risposte che possono essere anche guardi deve contattare l'ufficio tal dettaglio per avere questa informazione benissimo però diamo delle risposte che abbiano un contenuto in qualche modo che aiuti il cittadino a risolvere il suo problema dobbiamo sempre immaginare che il nostro obiettivo se attiva un servizio del genere è quello come dire di dare un servizio in più alla cittadinanza ok dobbiamo sempre pensare che il eh il canale eh il canale Whatsapp è un modo per dare ulteriori servizi al cittadino utente solo se cambia alla fine la piattaforma ma l'obiettivo deve essere quello il cittadino al centro cioè siamo detti fin dal primo incontro in cui ci siamo visti questo deve essere che sia sul sito web sia sui social che sia ancora di più su un chat dove c'è un rapporto 1 a 1 il cittadino deve essere al centro il comune di Arezzo poi che ha strutturato molto bene questo servizio ha utilizzato anche eh delle applicazioni di ulteriore sviluppo di Whatsapp che gli permette anche di gestire le organizzazioni in team perché? perché ha visto i risultati erano molto buoni e quindi ha ulteriormente poi implementato questa modalità di interfacciarsi eh con i cittadini che come avete visto è una modalità alla fine molto eh semplice fatta eh di eh domanda risposta o di invio di informazioni utili che però ho eh ottima possibilità rispetto ad altri canali che vengano lette dal cittadino perché Whatsapp io lo utilizzo allora sono le dieci eh e ventitré prima di passare poi alle altre eh alle altre piattaforme direi se vogliamo ci fermiamo ci fermiamo adesso eh dieci minuti prendiamoci dieci minuti Andrea assolutamente sì grazie mille quindi per le dieci e trentatré a voler essere precisi dieci e mezzo qualche minuto in più ci rivediamo qui a tra poco grazie eccomi qua a te Andrea Benissimo allora ripartiamo con eh diciamo l'analisi delle eh altre applicazioni messaggistiche istantanea utilizzate eh dalla eh pubblica amministrazione eh dagli enti pubblici italiani abbiamo visto infatti che se Whatsapp resta diciamo il eh la chat eh più eh scaricata e più utilizzata eh dai cittadini utenti ci sono c'è un universo anche il formato da altre applicazioni che come sempre è bene conoscere anche perché può cambiare il quadro diciamo di quelle che sono eh le eh preferenze eh degli utenti l'abbiamo visto eh un anno fa quando Whatsapp ha eh diciamo si è sparsa la voce c'era sempre cambiate le eh normative su diciamo le regole della sulla protezione della privacy su questa applicazione e quindi non eh saremmo stati non sarebbe stata più eh diciamo protetta la la nostra privacy e allora a quel punto i cittadini si sono spostati su altre piattaforme abbiamo scoperto anche altri servizi messaggisti istantanei che sono allora poi sono utilizzate in Italia eh una maggior parte è andata su Terra ma ci sono state anche esperienze di eh applicazioni magari fino ad allora semi sconosciuti come Signal che era un'applicazione che garantiva una grossa protezione dei dati eh personali e quindi gli utenti hanno diciamo preferito andare su quella eh noi oggi chiaramente vediamo quelle più utilizzate eh in Italia ma le applicazioni messaggistiche istantanei sono diciamo sono numerose ci sono anche eh diciamo applicazioni che eh sono eh non sono magari molto diffuse in Italia ma sono diffusissime in altri paesi esempio WeChat è un'applicazione in realtà tra un social è un'applicazione messaggistica istantanea che è molto eh utilizzata in Cina anche molto più anche di eh di Whatsapp in questo senso ad esempio però è bene eh aver presente il panorama generale del di cosa offre diciamo il il digitale perché perché magari mi può essere utile anche sapere che eh per la comunità cinese l'applicazione WeChat per magari eh il Giappone la più diffusa in line quindi teniamo bene a mente e in questo senso ora qui non lo riporto come esempio nelle nelle slide ma potete andare a eh vedervelo tranquillamente cercando l'online eh c'è un'esperienza anche da pubblica amministrazione che ha eh utilizzato eh WeChat l'applicazione diciamo più diffusa in Cina per comunicare con i cittadini in questo caso è il comune di Prato eh lì è presente una grossissima eh comunità cinese l'obbiettivo il mio obbiettivo è quello comunque di andare ad informarli perché se io riesco ad informarli su una serie di servizi magari evito che eh mi eh mi chiedano eh in altro modo queste informazioni e quindi un cittadino informato è senz'altro tutto riguadagna il problema di amministrazione e siccome con i diciamo i canali tradizionali è difficile eh andare ad informare magari un cittadino della comunità cinese l'amministrazione monale di Prato ha attivato un servizio su WeChat perché sa perché perché per la solita ragione ci siamo detti fin dall'inizio perché lì ci sono i cittadini che vogliono andare ad informare e quindi siccome eh lo strumento lo posso avere a disposizione più che nel passato lo vado ad attivare per quella specifica comunità. Eh ma torniamo diciamo a eh quelle che sono le esperienze nell'utilizzo delle eh chat più eh diffuse a livello italiano. Tra eh come abbiamo visto tra quelle più scaricate e più utilizzate dai cittadini c'è senz'altro Facebook Messenger che era l'applicazione che nasceva diciamo la chat che nasceva collegata a Facebook poi anni fa è stata diciamo gli è stata data eh vita propria adesso eh un'applicazione che è in marcia per la sua strada che ha all'incirca più o meno le stesse caratteristiche di WhatsApp eh in più ha i bot. Quindi come viene utilizzata da eh la pubblica amministrazione per la comunicazione diretta, le più informazioni utili, il eh lo scambio diciamo hai bisogno di informazione eh ti fornisco ecco quello che hai bisogno. in questo senso eh anni fa eh eh fu attivata un'ottima esperienza all'agenzia delle entrate per dare tutta una serie di informazioni quindi sì come dire avevo bisogno di quel eh di quel modulo di quella eh di quel chiarimento e me lo davano anche utilizzando Facebook Messenger. Perché? Perché magari il cittadino vede che il mio comune, la mia la mia regione, il mio ministero, la mia azienda pubblica è presente su Facebook. Siccome sono abituato che se vedo Andrea Marrucci, magari su Facebook che non lo sento da tanto tempo, non ho il sombro di telefono, non eh eh non ci sentiamo da in altri modi, allora dico qua già che è su Facebook lo vado a contattare tramite eh Facebook Messenger. È un'attività che molti di noi fanno quotidianamente. Allora vedo che il mio ente è presente su Facebook, allora lo vado a contattare se bisogna un'altra informazione tramite un messaggio diretto su Facebook Messenger. Ma su questa piattaforma è possibile fare, realizzare anche, come dicevo prima, queste piccole intelligenze artificiali, i bot che sono più o meno dei risponditori automatici che mi forniscono tutta una serie di informazioni. Chiaramente è uno sviluppo nell'utilizzo di questa piattaforma per cui non bastano le competenze di comunicazione, serve anche insomma una competenza a livello di software, ma è una strada che si può percorrere, dopo vedremo anche quindi nello specifico se eh eh quanto piace ai cittadini. Ma un esempio in questo certo, di questo tipo, ad esempio è stato fatto anni fa dal Ministero delle Politei Arrivoli e Forestali. Perché? Perché sì, su Facebook eh quindi su Messenger arrivavano tutta una serie di domande di a parte degli utenti cittadini e molto spesso erano diciamo domande di facile risposta, ma che una persona fisicamente doveva mettersi lì e comunque eh eh in qualche modo elaborare. Allora sono andati a eh creare un bot, l'hanno creato eh diciamo all'incirca ci possiamo fare l'esempio dell'albero di un sito. Io vedo quali sono le domande eh di eh che mi vengono poste più di frequente da parte eh del cittadino utente e allora vado a creare delle sottrategorie per cui io arrivo, il bot mi chiede eh cosa, quale informazioni ti interessano? Eh mi dà tutta una serie di possibilità, le news, bandi eh finanziamenti, scadenze eh settori specifici, ce ne so ora in quel caso era caccia e pesca, agricoltura, vado, clicco nella mia nella parte di mio interesse, bandi e mi dice bandi scadenze che puoi trovare a questo sito web a questo indirizzo. Ho risolto il tuo problema? Hai avuto quello che cercavi? Eh chiaramente se non sono riuscito ad arrivare alla fine della mia navigazione, nel mio, diciamo nella mia interazione con il bot ad avere l'informazione che cercavo, a quel punto arriva lo step successivo e quindi la persona eh fisica interviene e come dire vai a lavorare la eh richiesta del cittadino. Però diciamo nella prima parte tutta la scrematura veniva fatta attraverso il bot. Ma ci sono bot anche eh più complessi. Eh ad esempio eh gli aeroporti di Milano hanno diciamo un bot che ti dà le eh informazioni in automatico sul tuo volo. Come? Eh attraverso una chat su Messenger. Quindi io quando eh arrivo diciamo al avere interazione con con la pagina Facebook che cosa fa? Eh chiede se eh qual è la mia città diciamo eh la mia città di di interesse. In questo caso io ho messo Barcellona e lui mi chiede se arrivi o partenze. Voglio sapermi di voli che partono o che arrivano da Barcellona. Bene io metto eh in partenza. E lui mi comincia a dare tutti diciamo i voli, l'elenco dei voli in partenza all'aeroporto eh per destinare con la destinazione Barcellona. A quel punto eh io vado a scegliere il volo che mi interessa e lui da quel momento in poi mi darà diciamo tutti i vari aggiornamenti. Saperto il gate, il volo in partenza, c'è un ritardo. Insomma tutte le informazioni su il mio volo che io riceverò sul telefonino. Magari mentre sono eh a eh chat con il mio amico perché l'ha aperto e sto partendo e quindi ci sentiamo quando torno. Insomma una attività quotidiana e magari mentre siamo in attesa di imbarcarci su un aereo facciamo attraverso una chat. Ecco come si vede in questo caso il bot va come dire è come se fosse un'applicazione di eh legata al alla mobilità insomma o comunque legata ai servizi eh dell'aeroporto in questo caso specifico su quello diciamo che ci interessa di più ovvero quando parte il nostro aereo oppure quando arriva l'aereo perché devo andare a prendere una persona. Quindi è chiaramente può arrivare a essere concorrenziale con un'applicazione ma qual è il vantaggio? È che eh l'applicazione io come dire devo scaricare nel telefono mentre in questo caso già utilizzo una piattaforma che eh eh cioè l'aeroporto utilizza una piattaforma ma che i cittadini già usano abitualmente. Un'altra chat che si sta diffondendo tantissimo è eh è Telegram. Questa è una chat russa eh che ha diciamo le stesse anche in questo caso bene o male caratteristiche di un qualunque servizio di messaggistica istantanea quindi lo utilizzo per diciamo si parlare online con amici conoscenti eh colleghi di lavoro insomma l'attività classica di una qualunque eh chat in più anche in questo caso c'è la possibilità di creare dei bot e eh diciamo rispetto ad altre applicazioni esistono esiste la modalità del canale. Eh il eh i canali che cosa sono? Eh sono dei contenitori che stanno a metà tra quella che può essere una pagina Facebook o una un qualunque una qualunque presenza social network e l'invio le informazioni utili. Perché? Perché io al canale io cittadino al canale mi devo iscrivere quindi come mettere diciamo il mi piace però a differenza magari del mettere il mi piace su una pagina Facebook che poi come dire io vedo eh soltanto diciamo non sempre eh non è che ricevo le informazioni su eh la la pagina Andrea Marrucci Fan Club ha scritto questo con sul canale telegram ogni volta che il viene inserita un'informazione nel canale mi arriva con un messaggio con qualunque altro tipo di messaggio telegram sul mio telefonino eh a meno che chiaramente non abbia silenziato eh la chat quello va bene un altro è un altro discorso quindi diciamo a cose normali mi arriva la notifica come se diciamo se Andrea Marrucci avesse mi avesse inviato un messaggio in questo caso invece magari è eh la regione eh Piemonte piuttosto che eh il eh comune eh di Firenze quindi io mi iscrivo e a quel punto inizio a ricevere le news della mia amministrazione sul telefonino e anche in questo caso ci sono eh delle belle esperienze da parte della pubblica amministrazione eh perché eh si è creato dei canali magari anche dei canali specifici che eh hanno eh per informare i cittadini consideriamo che il canale non mi richiede nemmeno di avere il numero di telefono del cittadino e comunque come dire si può ragionare poi sulla privacy o meno di questa attività sul canale io sono presente sul telegram con uno nickname e con quello mi iscrivo alla piattaforma al canale del mio comune della mia regione del mio ministero quindi da questo punto di vista sono strumenti che possono essere eh molto utili alla eh comunicazione della pubblica amministrazione anche se telegram è in crescita e nel negli ultimi anni ha avuto un numero sempre maggiore di utenti che hanno scaricato e che utilizzo la piattaforma diciamo ancora però non ha i numeri di whatsapp né nel numero di utenti né nell'utilizzo. Anche se è una piattaforma che piace molto molto anche innovativa ha delle caratteristiche anche che come dire la rendono gradevole delle eh come dire gli emoti non animati ci si possono scambiare file molto grandi quindi diciamo anche delle caratteristiche renderebbero molto utile diciamo non ha avuto però ancora in Italia la piattaforma di whatsapp che diciamo resta quella eh più utilizzata. Il comune di alcuna come dicevo prima era partita con whatsapp ha affiancato anche il canale telegram e in qualche modo anche cercando anche un po' di eh come dire spostare magari la eh la propria utenza sul sul canale perché eh comunque diciamo più facilmente gestibile rispetto alle liste broadcast perché nel canale scrivo come scrivesse un post e lo pubblico poi lo posso modificare cancellare insomma insomma ha una facilità di utilizzo maggiore ma se il cittadino comunque vada e utilizza whatsapp diciamo dobbiamo pensare che se andiamo ad utilizzare telegram abbiamo tutta una serie di vantaggi ma probabilmente il pubblico di riferimento sarà in numero minore. eh ripeto anche se c'è stato un grosso incremento dell'uso della piattaforma perché ah almeno eh quello che ci garantisce il telegram è di avere una maggiore privacy rispetto a whatsapp anche se va detto in questo senso anche da parte di di whatsapp è stato fatto un lavoro per come dire garantire la privacy eh ad appare agli utenti. E andiamo a vedere magari chi l'ha eh realizzata. Tra le prime esperienze anni fa la reazione di un canale telegram c'è il ministero dell'istruzione che ha anche la spunta blu quel canale ufficiale e che eh in questi anni è riuscito ad arrivare a diciotto mila cento e centosettantotto iscritti che sono un numero importante di persone perché dobbiamo pensare che il eh il cittadino decide proprio di dare l'iscrizione quindi io voglio es cioè voglio proprio avere le informazioni del ministero dell'istruzione. Infatti diciamo che la platera è composta soprattutto da, diciamo, della scuola, docenti, insomma, è un pubblico selezionato e come lo utilizza il Ministero dell'Istruzione? Per dare le informazioni, le news, quello, come si utilizza un qualunque altro social, quindi un valore, un canale di informazioni, aggiornamenti, notizie del Ministero dell'Istruzione, come sempre si cerca di dare anche, diciamo, l'informazione sul fatto che siamo presenti anche su altre piattaforme, quindi siamo anche su Twitter, Instagram e Facebook e poi questo è l'indirizzo per collegarsi a Telegram perché come tutte le applicazioni anche va sia sul telefono che su altri dispositivi, sono anche sul computer e questo, diciamo, il fatto che sia anche molto ben gestibile su un PC, Telegram, lo rende anche facilmente utilizzabile. All'altra parte, per noi che andiamo ad attivarlo, diciamo, riusciamo a gestirlo molto bene anche da PC e quindi questo è un vantaggio nell'utilizzo quotidiano. Oltre chiaramente alle informazioni, alle news, chiaramente il canale è utilizzato per dare anche informazioni magari più specifiche, più dirette al pubblico che ho iscritto su questa piattaforma, quindi informazioni magari su bandi, eventi, avvisi che riguardano il mondo della scuola. Pensiamo che anche su Telegram posso valutare l'idea di creare magari anche dei canali specifici, magari posso decidere di utilizzare la piattaforma, siccome non ho dei numeri così ampi come su WhatsApp, magari posso dire, guarda, siccome le informazioni che riguardano un settore specifico, che magari può essere la salute, le faccio transitare anche su Telegram. Quindi, come dire, se le vuoi, scaricati l'applicazione. In questo senso, per esempio, la regione Piemonte, ai tempi della pandemia, aveva attivato un servizio informativo con tutte le news sul Covid, su Telegram. Perché? Perché in quel momento avevo dei contenuti specifici, neanche un buon numero di contenuti, per, come dire, tenerli in un unico contenitore, aveva scelto, tra gli altri, anche Telegram. Quindi, come vedete, diciamo, questa applicazione messaggistica istantanea ha caratteristiche diverse. Un pubblico che, in qualche modo, è più o meno ampio, in tutti i casi, quando si utilizzano, ci trascorriamo un bel po' di tempo, perciò dovrò valutare quale è magari quella più adatta alle esigenze di comunicazione del mio ente. E, in base a quello, andare quindi a scegliere il servizio WhatsApp, che può essere, come abbiamo detto, informativo, ma anche di scambio di informazioni come se fosse uno sportello. Posso decidere di utilizzare magari un bot, perché mi, come dire, mi dà le prime informazioni, quelle necessarie all'utente, che, perché vedo che nel 90% dei casi mi chiede, ne so, dove posso scaricare il modulo, e quindi, allora, voglio riportare. Quel tipo di interazione può essere gestita anche da una piccola intelligenza artificiale. Posso decidere di realizzare un canale, perché, come dire, ho un pubblico selezionato, e quindi, guarda, sono qui, su questa piattaforma, e viene anche te. Quello che più conta è il fatto, che siccome lo utilizziamo normalmente, questo tipo di informazioni che ci sono su questi strumenti, hanno veramente grandissime possibilità di raggiungere il nostro obiettivo, il nostro cittadino. E dobbiamo, comunque, pensare che, se andiamo ad attivare uno sportello online via chat, il tono di voce deve essere un tono da chat. Quindi, cerchiamo di, come dire, preferiamo dare del tu a chi è dall'altra parte. Valutiamo, ma cerchiamo, di utilizzare l'emotico della conversazione che abbiamo su WhatsApp o su un'altra chat con il cittadino, perché siamo abituati a farlo. Siccome, molto spesso, al termine di un qualunque messaggio che mandiamo alla moglie, al marito, al figlio, agli amici, ci aggiungiamo una faccina per dire il nostro stato d'animo, facciamolo anche una chat su WhatsApp. È evidente che, magari, posso valutare quali sono gli emoticon da utilizzare. Questo è uno studio che posso decidere prima. Magari non è che li utilizzerò tutti. Deciderò quali sono, diciamo, quelli che mi siano proprio adatti a caratterizzare la mia comunicazione via chat con il cittadino. Il tuo e voce è molto importante, perché, siccome io sono abituato alle comunicazioni su WhatsApp che siano veloci e molto amichevoli, il mio ente, la mia pubblica amministrazione che trovo su questi canali, deve essere allo stesso modo. Quindi, non facciamo l'errore di utilizzare WhatsApp con, diciamo, le regole di un altro strumento di comunicazione. Come abbiamo visto, il gruppo Facebook, il gruppo Meta, sta puntando sempre più sulle community e sullo sviluppo delle community attraverso la messaggistica istantanea, la messaggistica diretta. Ma questo, già anni fa, era, diciamo, uno delle caratteristiche dello sviluppo delle piattaforme del gruppo Meta. Infatti, anni fa, già Facebook, stava commissionando una serie di indagini per comprendere l'importanza di questo strumento e anche l'utilizzo dei bot. Perché? Perché sempre più siamo abituati a questo strumento. E per chi ha figli adolescenti sa bene che uno degli strumenti privilegiati di comunicazione sono i gruppi Whatsapp, gruppi dove c'è, diciamo, dentro ci sono veramente persone che nemmeno si conoscono ma che vengono inserite nel gruppo e che cominciano in qualche modo ad interagire. Così come hanno gruppi Whatsapp per qualsiasi cosa, dagli amici del mare a quelli che fanno sport insieme, alla scuola, insomma. L'utilizzo di queste community su piattaforme di messaggistia istantanea è, senz'altro, ha delle tendenze che ci dobbiamo aspettare nel mondo social nel futuro prossimo. Quindi, come dicevo, già da tempo Facebook stava lavorando su questo e i trend, tra i vari trend nel mondo social, ci dicono che veramente le interazioni si stanno spostando sempre più dal commento pubblico al messaggio privato. L'abbiamo visto anche quando abbiamo affrontato, incarrellato i vari social, arrivando anche a quelli ai linguaggi più innovativi come su TikTok o i Reels di Instagram che le interazioni in cui eravamo abituati magari fino adesso stanno calando perché tendiamo a consumare i contenuti in maniera sempre più rapida e allora quell'interazione non è che sparisce dal mondo social, sono piattaforme nate per l'interazione di social, le operazioni messaggiste istantaneamente, l'interazione resta ma si sposta diciamo su altre modalità, molto più spesso sui messaggi diretti. Quindi da un lato il cambiamento del linguaggio ma dall'altro anche diciamo il cambiamento dell'ambiente in cui andiamo a realizzare la nostra interazione quindi può succedere benissimo è una cosa a cui anche voi siamo molto abituati che il contenuto di un social magari non ha le interazioni lì sulla piattaforma ma viene condiviso magari in un gruppo Whatsapp in un gruppo su Telegram e da lì come dire nascono poi le interazioni di commenti e quant'altro questa è una tendenza che ormai sta andando sempre più in crescita questa è una ricerca in America è una ricerca condotta su 6.000 persone in tutto il mondo il 90% di un senatore vorrebbe utilizzare i messaggi per le comunicazioni commerciali e pensiamo sempre che se io mi abito a utilizzare i messaggi diretti sia già li utilizzo per un uso quotidiano amici parenti come ci siamo detti mille volte ma li utilizzo anche magari per parlare con un brand con un'azienda tendrò ad avere questa attività anche chiaramente per interfacciarmi per con la pubblica amministrazione questo è una delle ricerche di Facebook negli Stati Uniti i messaggi sono nel canale per diretto per il customer service nel 2018 Facebook ha condotto uno studio su un campione di 8.000 persone per il 69% intervistati mandare un messaggio diretto ad un'azienda aumenta la fiducia del consumatore verso il brand perché? perché io mi trovo a interloquire direttamente con l'azienda ancora di più se dall'altra parte invece un'azienda c'è un ente pubblico perché? perché siccome voglio dire siamo facciamo l'ente l'amministrazione vista probabilmente come una parte di noi ci aspettiamo ancora di più una risposta ad un'interazione dal servizio pubblico in generale comunque se vi trovate magari a gestire una pagina Facebook o un account su Twitter e come dire mi chiedono una serie di domande magari sotto un post in un ambiente pubblico soprattutto se queste domande non sono diciamo di interesse generale ebbene cercare di spostare diciamo la nostra interazione sui messaggi diretti che sono più facilmente gestibili non cambia niente rispetto a quello che facciamo nel fisicamente cioè se io mi trovo in una stanza e una persona mi fa delle domande in una stanza dove ci sono anche altre persone magari le altre persone tendono a intervenire magari dando anche messaggi sbagliati se io invece ho una mobilizzazione uno a uno riesco ad essere chiaramente molto più diretto molto più chiaro lo stesso dinamica la spostiamo sui social network io volevo andare velocemente a vedere anche i chatbot queste piccole intelligenze artificiali che possono essere anche queste degli alleati per la nostra per la nostra necessità di comunicazione informazione perché dobbiamo comprendere se sono davvero strumenti utili l'ho detto finora ma vediamolo più dello specifico questa è una ricerca del 2018 in cui si chiedeva ai cittadini se preferivano un chatbot o un'app quando io vado a interfacciarmi in questo caso naturalmente un'azienda ma il ragionamento come ho detto prima vale anche in qualche modo per un'azienda pubblica preferisco farlo attraverso magari un chatbot un'app i dati che vengono fuori indicano che in molti casi si preferisce il chatbot perché non ultimo perché se io ho l'applicazione magari della mia amministrazione dove comunque ho tutta una serie di informazioni chiedo al cittadino che la vada a scaricare vada nello store di io o google a scaricarsela nel telefono vada poi a in qualche modo iscriversi quindi chiedo tutta una serie di azioni per iniziare ad utilizzare l'app ora noi abbiamo tutti tante app nel telefono quelle utilizziamo più quelle utilizziamo meno come poi canali televisivi abbiamo a disposizione centinaia di canali televisivi ma alla fine molto probabilmente quelli che guardiamo saranno magari poco più di 10 non è che andiamo non è che se ne abbiamo 200 a disposizione li guardiamo tutti e 200 i canali televisivi e lo stesso con le app magari nel telefono abbiamo un gran numero di app che abbiamo scaricato ma poi andiamo a utilizzare quelle che ci servono davvero quindi per comunicare quindi le varie app abbiamo visto messaggistiche istantane i social e poi quelle che ci servono da amazon perché vogliamo fare gli acquisti online abbiamo visto le prime posizioni tra quelle che utilizzate oppure applicazioni che ci sono utili come quella per le applicazioni per che sono state rilasciate durante la pandemia non è detto che se io mi scarico l'applicazione magari della mia amministrazione poi andrò a utilizzarla davvero perché perché magari in quel momento in cui mi sto prendendo il telefono e come dire faccio un'interazione la faccio su facebook perché è il social in cui vado a vedere cosa fanno gli amici in cui scrivo il post in cui mi informo abbiamo visto che c'è un grosso utilizzo e quindi in questo senso magari un chatbot collegato a un servizio già a una piattaforma già molto diffusa è di grande utilità e vediamo allora i consumatori in questo caso preferivano il bot per che cosa per avere risposte rapide a domande semplici infatti questo è un utilizzo e come abbiamo visto è stato fatto anche dalla pubblica amministrazione il ministero delle politiche aiuto e forestali voleva dare delle risposte rapide a delle domande molto semplici e quindi ha attivato un bot chiaro vedono il servizio rispetto alla persona che è dall'altra parte che ti dà una risposta senza altro il bot ha un servizio h24 riesce in qualche modo il bot a rispondere anche a domande complesse magari invece nell'app ho più difficoltà perché mi devo orientare da solo posso facilmente segnare un reclamo ottenere risposte anche dettagliate quindi diciamo in molte casistiche in molte casistiche il chatbot era preferito all'app questa è diciamo una indagine del 2018 quindi secondo questa ricerca i chatbot possono scrivere in parte le app per quanto riguarda il rapporto con il pubblico quindi se io ho diciamo voglio andare a realizzare un'applicazione posso sennò valutare di realizzare magari un chatbot collegato alla mia presenza su una piattaforma dei messaggisti è istantanea e questo mi dà il vantaggio come ho detto finora che riesco a elaborare tutta una serie di richieste in maniera molto semplice su una piattaforma molto utilizzata i chatbot non sono soltanto collegabili alle piattaforme messaggistiche istantanea ma possono essere collegati anche a un sito web sono risponditori in questo caso è un'azienda sanitaria che ha collegato un chatbot al proprio sito web per dare informazioni sul covid ciao sono covbot ho bisogno di informazioni su tamponi hai bisogno scusate di informazioni sui tamponi sull'isolamento sulla quarantena sulla campagna di vaccinazione anti covid 19 chiedi a me lo avverti anche che è ancora in fase sperimentale e quindi il servizio può non essere completo ma magari facendomi delle domande vado a migliorare il mio servizio perché? perché posso rendermi conto che secondo lo schema che mi ero fatto io le domande più frequenti erano quelle che riguardavano l'isolamento domiciliare o la quarantena e invece magari scopro che ci sono più per prendere un appuntamento per fare il tampone quindi come dire il bot si può chiaramente poi implementare migliorare e renderlo più adatto alle esigenze e alle richieste dei cittadini in linea di massima se io vado a realizzare un chatbot collegato al sito web ma in questo caso abbiamo guardato più quelli chiaramente collegati alla ai servizi eseggistica istantanea devono andare ad interfacciarsi le competenze del comunicatore con quelle veramente di chi si occupa di software dell'informatica perché il comunicatore deve essere quello che in qualche modo va a creare i contenuti del bot a capire quali sono le domande che vengono poste e quali risposte da dare e soprattutto con che linguaggio con che tono di voce quindi serve un raccordo fra più professionalità non dimentiamo mai che il lavoro del comunicatore soprattutto con questi strumenti è quello di rendere facile le informazioni che andiamo a trasmettere ancora di più se il servizio in questione avviene attraverso una chat e attraverso un bot quindi deve essere fare uno sforzo per rendere il più comprensibile possibile ancora di più rispetto a quello che ci siamo detti per quanto riguarda i contenuti che vado ad inserire in un sito web o nella realizzazione di contenuti per le piattaforme social deve essere ancora più stringato chiaro rendere veramente semplice la la mia comunicazione in uscita perché dall'altra parte non c'è non ci sono non c'è una persona fisica che eventualmente può andare a implementare ma c'è un risponditore automatico che quindi deve fare centro veramente senza riducendo al minimo la possibilità di errore quindi ricapitolando e poi andiamo a vedo che ci sono molte domande quindi vorrei cercare di rispondere a quante più possibile quelle che sono state poste già stamattina abbiamo visto che le chat sono possono essere un importante strumento nella nostra strategia di comunicazione digitale che chiaramente va a integrarsi con tutti gli altri strumenti a disposizione del mio ente del pubblico amministrazione perché perché sono molto diffuse sui smartphone dei cittadini quasi la totalità ha un'applicazione messaggistica istantanea e sono anche molto utilizzate dai cittadini quindi sono strumenti su cui è bene esserci per esserci non basta non basta esserci ma dobbiamo anche starci bene attraverso come sempre una strategia quindi vado a vedere quali sono i servizi tra i vari che possono essere più adatti alla mia comunicazione e come andare ad utilizzarli perché sulle chat si possono realizzare dei servizi di invio di informazioni l'abbiamo l'abbiamo visto con le liste broadcast su whatsapp o con i canali su telegram posso valutare di utilizzarle come uno sportello in chat per ricevere segnalazioni ricevere domande e dare risposte ai cittadini la maggior parte di queste esperienze sono su whatsapp abbiamo visto da prescia mobilità al comune di Ancona abbiamo affrontato abbiamo visto nel particolare anche come l'ha strutturato il comune di Arezzo ma ci sono anche su facebook messager esperienze di questo genere oppure posso realizzare dei bot che sono delle piccole intelligenze artificiali abbiamo visto che vanno a dare le prime risposte ai cittadini su una serie di domande che dovrebbero essere semplici oppure vanno a dare un servizio come ha fatto le porte di Milano indicando quando parte l'aereo o 4 ore a terra quando si apre il gate e via dicendo questi diciamo sono gli utilizzi principali ci sono le chat utilizzate più di frequente l'amministrazione gli utilizzi principali che ne viene fatto se decido comunque di essere presente su una o più di questi di questi strumenti più di queste piattaforme devo comunque realizzare la policy tutte le attività che ci siamo detti negli incontri precedenti valgono chiaramente anche per whatsapp per telegram per facebook messager e per via via le applicazioni messaggiste che vogliono attivare o che verranno fuori nei prossimi anni quindi sono diciamo social a tutti gli effetti con le regole anche i pericoli e quant'altro che ci siamo detti negli incontri precedenti allora vado a utilizzare questi ultimi minuti a disposizione per andare a vedere le domande avete posto in chat e dare una prima risposta la giuseppe la giuseppe della camera chiede queste app potrebbero essere utilizzate anche per ragioni di protezione civile ci sono esperienze in tal senso negli altri paesi allora sì certo potrebbero essere utilizzate per la protezione civile l'invio di informazioni che arrivano sul telefonino in tempo reale a un gran numero di persone hanno senz'altro sono utili alla insomma all'informazione di protezione civile più che esperienze in altri paesi europei ci sono anche esperienze anche in Italia ma non c'è andare a vedere altri entri istituzioni hanno attivato questo servizio il comune di Ancona doveva come dire aveva bisogno di un c'era trovato un ordigno un esploso in una zona della città doveva dare quel tipo di informazioni per diciamo si li per qual è la zona per dicendo tra gli strumenti utilizzato anche Whatsapp anche con buoni risultati in linea di massima tutte queste piattaforme comunque social e chat si prestano benissimo all'utilizzo per scopi di protezione civile e ci sono anche tante esperienze di gruppi locali di protezione civile che le utilizzano per dare informazioni quindi non c'è nemmeno bisogno di andare all'estero e vi assicuro che l'Italia nell'utilizzo di questi canali digitali delle piattaforme social è molto avanti rispetto anche a altri paesi europei ma anche nel mondo quando il ministero politico del forestale ha attivato il bot su Facebook Messenger è credo sia stata una delle prime se non la prima esperienza a livello mondiale di una organizzazione così complessa che affida una parte della sua comunicazione e informazione a un bot collegato a Facebook Messenger l'uso dei bot è abbastanza attraverso che riscontri ci sono quali risultare efficaci e beh allora sui riscontri abbiamo visto anche in base a alcune ricerche sono comunque apprezzati dai cittadini per interfacciarsi con in quel caso si parlava di aziende private ma si può fare il ragionamento anche per gli enti e aziende pubbliche perché forniscono una serie di informazioni di base ma era molto rapida e molto semplice il caratterismo per risultare efficace beh certo la prima caratteristica è quella di dare le informazioni che mi aspetto quindi molto importante è l'analisi del che fa bisogno che cosa mi chiedono i cittadini e quindi a cosa devo rispondere ecco un bot che funziona è senza altro quello che alla fine fornisce il servizio richiesta al cittadino e per farlo è molto importante che da un lato ci sia un'analisi dei dati ci sia una comunicazione che funziona e che riesce a rendere chiare le le risposte da dare ai cittadini ma facevo l'esempio di un sito idere quando andiamo a disegnare l'albero di un sito poi vediamo se l'abbiamo fatto correttamente in base a quanto questo riesce a soddisfare le richieste degli utenti che anterrono sulla mia piattaforma e più e nemmeno lo stesso ragionamento vale anche per un bot Maria Morena Aragone mi chiede a suo parere uno sportello social con giorni orari prestabiliti può essere una certa opportuna un sito di un social attivo su 24 tutti i giorni beh sì innanzitutto perché comunque fornisco un servizio aggiuntivo ai cittadini quindi senz'altro voglio dire è positivo è chiaro che l'abbiamo parlato nella volta precedente non posso essere 24 ore su 24 magari a presidiare a dare risposte a inserire contenuti su un social e quindi attraverso le policy mi darò come dire delle regole e le darò anche a chi usufruisce del servizio questo vale per facebook ma vale anche per l'attivazione di un canale whatsapp è la stessa metodologia quindi io se decido di avere una comunicazione anche da sportello su whatsapp dovrò dire quando il che orario sarà possibile avere delle risposte che come ho detto anche nella volta precedente non è che siccome siamo su whatsapp allora dobbiamo per forza dire che siamo attivi 24 ore su 24 possiamo anche dire che siamo attivi in orario d'ufficio così come un qualunque altro servizio della mia amministrazione Maria Antonia Noce mi chiede risultano esperienze simili attivate da università ed eventualmente per quali servizi ma sì certo ci sono numerose università che sono presenti su whatsapp su telegram sulle operazioni messaggistiche istantanea tutta Italia l'utilizzo che ne viene fatto in maggioranza è quello dell'invio di informazioni utili in questo caso agli studenti che poi è anche diciamo l'utilizzo maggiore che viene fatto da enti aziende pubbliche hanno scelto la messaggistica istantanea per dare informazioni e comunicare con i cittadini perché chiaramente un servizio di sportello è più complesso rispetto a un servizio di invio di informazioni torniamo a uno dei cardini della nostra scelta di come utilizzare queste piattaforme perché per come dire rispondere a per starci bene quindi rispettare le regole nell'utilizzo di questi di questi strumenti dobbiamo avere diciamo farci una richiesta su quanto personale abbiamo a disposizione quale professionalità in quale orari possiamo essere presidiati e via dicendo quindi in questo senso è chiaramente un invio di informazioni chiaramente un invio di informazioni è molto più semplice di uno sportello in cui devo comunque essere certo di avere il personale a disposizione per presidiarlo e dare risposte allora chiara pagano mi chiede che differenza c'è tra un canale telegram e whatsapp community beh allora sulla carta le differenze non dovrebbero essere moltissime però siccome whatsapp community è diciamo un aggiornamento che ancora non è non è utilizzato per esperienze di gestione di una comunità di un canale di una pubblica amministrazione diciamo che al momento non saprei dare una risposta precisa in teoria dovrebbero essere molto simili ma questo non stupisce perché nel mondo social delle applicazioni le buone idee molto spesso comunque passano dalla piattaforma all'altra con grande facilità quindi se si vede che c'è una metodologia per cui un social o un'applicazione funziona molto bene si tendrà probabilmente quel tipo di contenuto quel tipo di modalità ce la ritroveremo poi anche su altre piattaforme quello che appare nei trend è che comunque le piccole comunità saranno valorizzate nelle strategie dei player del mondo social quindi abituiamoci sempre più al concetto di community e di gestione della community anche attraverso l'applicazione messaggistica istantanea giorgio clara chiede su telegram la privacy è maggiormente garantita rispetto a whatsapp si su telegram c'è una diciamo sì almeno almeno ha secondo quello che sostiene la piattaforma c'è una maggiore garanzia di privacy perché comunque diciamo è una mi ha fatto diciamo una delle sue bandiere telegram sulla difesa della privacy quindi dovrebbe essere maggiormente garantita pensiamo sempre che comunque anche dietro a telegram c'è una società in questo caso non è meta ma è una società russa che quindi nel senso quello che poi può fare dei nostri dati chiaramente al cento al mille per cento non lo sappiamo però diciamo che per la metodologia per cui è costruita la piattaforma dovrebbe garantire una maggiore privacy ed è per questo che quando si diffonde la voce di whatsapp non garantirà solamente la prova dei utenti anzi i nostri non su whatsapp tutti sapranno quello che facciamo molti sono spostati su telegram ma c'erano anche applicazioni proponate anche per la difesa della privacy su queste piattaforme per questi allora Matteo Nerieti per questi canali social come telegram whatsapp messagger quali sono i rischi e attacchi informatici da competire immagini dell'amministrazione sono gli stessi di qualunque altro tipo di piattaforma chiaramente quale può essere il problema e a volte purtroppo si verifica che queste piattaforme che non sono come abbiamo ricordato anche una volta presenti di proprietà di nostra proprietà quindi siamo su player esterni se ci sono dei malfunzionamenti non ci possiamo fare niente se whatsapp o telegram o facebook messagger vanno down la nostra comunicazione in quel momento va anch'essa a farsi bene dire e non possiamo intervenire per risolvere il problema dobbiamo aspettare che ci venga che la piattaforma ritorni fruibile utilizzabile quindi chiaramente questo è un rischio che si può correre utilizzando però qualunque tipo di servizio che non possiamo gestire direttamente noi per il resto è chiaro diciamo che solitamente vari obiettivi sono altri abbiamo visto però altri attacchi informati molto spesso riguardano i siti della pubblica amministrazione però può accadere anche su queste piattaforme per questo chiaramente se io comunque sono presente su qualunque tipo di social la gestione delle password come abbiamo detto nell'incontro precedente che poi vado a mettere anche nel rosso bianco su della mia polisi è molto importante variare cambiare queste password è comunque un'attività che dobbiamo fare per noi e ancora di più se ci dobbiamo gestire la presenza digitale della nostra amministrazione facciamo rispondere un'ultima domanda Silvio Renzi chiede se un comune aprire più chat non rischia di diventare dispensione per il cittadino addirittura dispersivo se non via la base un attento beneficazione o diversificazione delle notizie a diffondere su diverse applicazioni sì sono d'accordissimo è inutile aprire 10 servizi se non abbiamo i contenuti per 10 servizi è inutile aprire 10 account pagine o servizi in chat se vanno soltanto a replicare le notizie che mettiamo da un'altra parte c'è l'esempio di una regione che aveva aperto se non sbaglio tre canali telegram uno diciamo con le notizie magari della giunta uno con le notizie con il servizio di informazione un altro per un altro servizio pubblicava su telegram su tre canali diversi sempre comunicati in stampa che faceva la regione in quel caso è inutile utilizziamo il canale soltanto è inutile perdere la presenza inserendo come sempre strategia pianificazione realizzazione di contenuti professionalità e forza lavoro sono fondamentali per decidere su quali piattaforme stare e soltanto in base a quello decidiamo se stare su una o su 10 piattaforme a 10 canali oggi voglio velocizzare Barbara per venire grazie mille assolutamente Andrea infatti grazie per questo sprint finale grazie per tutte queste quattro lezioni che ti hanno visto ci hanno visto protagonisti perché devo dire sì i contenuti sono stati tanti ma è stata anche una preziosa occasione di confronto e di interazione tra tutti grazie anche ai partecipanti per i grandi spunti che devo dire sono emersi a livello di chat per tu è un grazie generale a te in particolare i materiali già disponibili su eventi PA verranno al più presto resi disponibili anche sul sito di lineamica www.lineamica.gov.it slide così come le registrazioni così come le FAQ dateci il tempo di lavorare i materiali per poterveli presentare nella maniera più opportuna questo vi prego vi do appuntamento anche io con uno sprint finale a giovedì della prossima settimana cambiamo tema cambiamo modulo non sarà più con noi Andrea Marrucci andremo a parlare di un tema di grandissima attualità il PNRR il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'appuntamento sarà sempre alle ore 9.30 per giovedì 12 maggio arrivederci a tutti e un'ottima giornata grazie ancora grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti